in veneto 40.000 casse integrati senza un soldo da 7 mesi sindacati pronti alla battaglia prof senza etiche e remore al stando le denunce sembra sia così anche se i cattivi sono minoranza la carica dei 5.000 scout del veneto pronti per l'evento nazionale di fine agosto a pisa libero cognome libero stato mentre il parlamento temporeggia per la gente i tempi sommaturi ben trovati in tg chiara un telegiornale che prende le mosse dai 40.000 casse integrati veneti che non percepiscono un soldo da mesi sindacati sul piede di guerra la prossima settimana mobilitazione a roma come ci conferma lara lago sono 40.000 lavoratori veneti che da gennaio non vedono l'ombra di un euro colpa di uno stallo nella cassa integrazione in mobilità in deroga con 55 milioni di euro finanziati ma bloccati che arriverebbero a malapena a coprire le richieste fino a luglio sono 8.000 le aziende venete che hanno fatto domanda di cassa in deroga più di 5.000 invece quelle che hanno attivato licenziamenti da gennaio a maggio dati che vedono anche un preoccupante più 16 per cento di lavoratori presenti in lista di mobilità dal maggio 2013 a quest'anno per questo cgl cis le will hanno indetto una mobilitazione che arriverà il 22 24 luglio a roma in piazza montecitorio un fronte compatto per far sentire al governo il proprio basta vogliamo che si facciano carico della grande sofferenza che il veneto che lavora ha incontrato in questo periodo di carenza di investimenti di sofferenza perché la cassa integrazione non viene erogata e un veneto che è sempre stato solidale e che si è andata ogni giorno a una situazione che via via è sempre più difficoltosa circa 4.500 domande di mobilità in deroga che sono lavoratori e lavoratrici che sono già stati licenziati e che nella mobilità in deroga avrebbero l'unica fonte di ammortizzatore di sostegno a reddito non accedendo a quelli ordinari ancora una volta ci troviamo di fronte al fatto che la crisi va avanti senza miglioramenti alcune e abbiamo le incertezze nel garantire l'unico ammortizzatore sociale per quelli che altrimenti sono sprovvisti di qualsiasi copertura economica A nord est i pensionati del settore privato più ricchi abitano a Trieste, Venezia e Gorizia nella provincia giuliana l'assegno medio è pari a 1.236 euro in laguna 1.200 mentre nel goriziano monta 1.142 tra le 13 province nordestine sul loro vigolo in porto medio è inferiore a 1.000 euro precisamente 942 in termini assoluti è comunque Verona registrare il più alto numero di pensioni nel settore privato nord est al primo gennaio ne contava 160.656 seguono Vicenza con 154.197 e Treviso distaccata di pochissimo tra il 2002 e il 2012 il numero delle pensioni è aumentato del 14,5% a Vicenza del 10% a Padova e dell'8% a Venezia Il nuovo programma di sviluppo rurale metterà a disposizione circa 100 milioni di euro nei prossimi sette anni per il sostegno alla produzione e agli investimenti aziendali delle imprese agricole la somma includerà misure di credito a tasso agevolato e un fondo di garanzia a copertura dei mutui bancari a dichiararlo l'assessore regionale all'agricoltura Manzato durante la presentazione delle nuove formule di credito per le aziende agricole nell'occasione Veneto Sviluppo ha presentato la nuova linea di riassicurazione del credito per il settore agricolo con l'estensione del fondo di controgaranzia ai consorzi fidi che operano nel settore primario Sono una piccola minoranza ma bastano a far parlare male dell'intera categoria sono i prof denunciati all'ufficio scolastico regionale il punto in questo servizio In tutto sono poco meno di 200 per l'esattezza 194 sono le inchieste disciplinari recapitate nelle stanze dell'ufficio scolastico regionale del Veneto poco meno di 200 in un anno soltanto per carità poco a cosa se si considera che l'esercito di docenti in prima linea Nelle 28.274 classi delle scuole Veneto era costituito in questo ultimo anno scolastico da quasi 49.000 prof e maestri ma comunque un numero che fa riflettere perché se è pur vero che un'inchiesta su 5 si è chiusa con l'archiviazione spesso perché frutto di eccessi di zelo e di protesta da parte di genitori non sempre obiettivi e non sempre in buona fede è altrettanto vero che sono stati ben 110 docenti che si sono visti contestare sanzioni disciplinari con sospensioni fino a 10 giorni e 44 quelli colpiti da sospensioni di lunga durata o addirittura da licenziamento La frase di rito per la gran parte di loro è assetticamente generica condotta non consona verso superiori colleghi o alunni una frase in cui possiamo ritrovare con declinazioni più specifiche davvero di tutto dalle moleste sessuali alle percosse, dalle bestemmie alle sevizie comportamenti oggettivamente inaccettabili per chi si freggia del titolo di educatori comportamenti oggettivamente inaccettabili per chi si freggia del titolo di educatore comportamenti che grazie alla banca dati istituita di recente che vede tra i principali sostenitori l'attuale provveditore di Venezia e dirigente reggente di Vicenza, Domenico Martino sono oggi monitorati e schedati che si rivelano purtroppo in alcuni casi pure reiterati, recidive inquietanti anche quando si tratta di semplice, tra virgolette, negligenza Calciatori e attori per una buona causa sono quelli del Cittadella protagonisti di un video che illustra le corrette manovre da eseguire in caso di arresto cardiocircolatorio un importante messaggio di educazione sanitaria promosso da Croce Rossa Italiana Cittadella Calcio e ULS 15 Alta Padovana e realizzato dal reparto RED di Big Rock dopo l'anteprima allo stadio della Città Murata domani venerdì 18 luglio alle 20.30 il video sarà diffuso sul sito www.cripadova.it nelle sale cinematografiche sarà inviato a tutti i comitati provinciali della Croce Rossa se non si trovano in fretta nuovi iscritti non c'è futuro per il gruppo dei volontari del soccorso di Pellestrina è l'appello lanciato dal presidente Michele Busetto che sottolinea come oggi siano soltanto 8 i volontari operativi che si occupano del trasporto di anziani e dei trasferimenti di pazienti dimessi dagli ospedali, troppo pochi per garantire in maniera adeguata un servizio iniziato nel 1993. Tra le tante leggi che in Italia sembrano non approdare mai al traguardo c'è anche quella che garantisce libertà di scelta nell'attribuzione dei cognomi ai figli vediamo che cosa ne pensa la gente. Non è più così scontato in Italia avere il cognome solo del papà, c'è una legge anche se l'Itera è molto lungo è stato passato in commissione ma bloccato in Parlamento. Due gli aspetti principali, un figlio, un bambino piccolo può ricevere il cognome sia della mamma che del papà ma soprattutto al compimento del diciottesimo anno di età, potrà scegliere da solo? Crea confusione nei bambini e poi quando si sposeranno e avranno degli altri figli avranno quattro cognomi e sei cognomi e avanti così. Sono favorevole anche perché è cambiato molto il costume nella nostra società negli ultimi tempi e ci sono sempre più separazioni. Io ad esempio avrei voluto che i miei figli continuassero a mantenere il cognome mio. Dal momento che è maggiorenne e che ha tanti diritti acquisiti penso che possa anche decidere di poter cambiare il cognome. La trovo una cosa giusta perché a diciotto anni insomma uno è libero di decidere, è già maturo delle sue responsabilità. Crea delle complicazioni, uno dopo diciotto anni cambia cognome e perde l'identità quindi è anche difficile poi dopo ricostruire una storia. Se i miei due bambini vogliono prendere anche il cognome della mamma per me non c'è nessun problema. Siamo liberi di fare tutto, non è questo che incide poi sulla vita di una persona. Perché se il papà non c'è ci mettiamo quello della mamma che è tanto bello. La campagna Respira il mare che ha fatto di Bibione una spiaggia smoke free sta dando i suoi primi e forse impensabili frutti. Sono infatti più di 40.000 mozziconi di sigarette raccolti nelle primissime settimane di campagna nei cosiddetti mozzicometri contenitori gratuati in cui finiscono i mozziconi che sarebbero altrimenti finiti sulla sabbia. Un numero dunque già enorme che testimonia anche l'adesione dei turisti e l'iniziativa lanciata dall'amministrazione dei San Michele al Tagliamento insieme ad Asvo, Ulse 10 e i gestori dell'Arenile. Costano poco e sono un servizio insostituibile alle imprese. Parliamo di camere di commercio sulle quali pende oggi un tutt'altro che remoto rischio o chiusura. In questo servizio la sintesi del loro ruolo. La riduzione del 50% del diritto annuale versato dalle aziende alle camere di commercio porterebbe un risparmio di appena 63 euro. Due euro e mezzo invece nel caso di ditte individuali. Numeri che lasciano basiti per la loro scarsissima incisività rispetto agli importanti servizi di informazione forniti dalle stesse camere di commercio agli imprenditori. Ristrutturiamo, rivediamo, riorganizziamo, facciamole costare anche meno, ma teniamo conto che sono importanti per le imprese, soprattutto per le piccole e piccolissime che non hanno la possibilità di affrontare certi problemi da sole. Lo studio condotto da Union Camere Veneto e CGA di Mestre ha portato alla luce tutte le ombre nascoste della riforma sulla pubblica amministrazione che, in tema di tagli, vorrebbe eliminare anche le stesse camere di commercio. In tal senso ci sarebbero 2.500 posti di lavoro a rischio, un aggravio sulle casse dello Stato di 167 milioni di euro e un effetto recessivo di circa 2 miliardi e mezzo di euro, senza tenere in considerazione che le aziende hanno espresso un indice di gradimento verso le camere di commercio che sfiora al 90%, confermando quindi la loro importanza per lo sviluppo e il sostegno dell'attività produttiva in Italia e anche verso l'estero. Saranno trasmesse in diretta su Telechiara a partire dalle 10 di sabato 19 luglio i funerali di Monsignor Pietro Nonis, Vescovo Emerito di Vicenza. A celebrarli in cattedrale il Vescovo Pizzioli, insieme a lui e molti altri Vescovi delle altre diocesi del Triveneto, intanto da questo pomeriggio la camera ardente per l'omaggio a Monsignor Nonis è stata trasferita nell'oratorio del Gonfalone, in Piazza Duomo. Domani sarà possibile sostarvi in preghiera dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 21, tre momenti di preghiera comunitaria, alle 8 le Lodi, alle 18 e 30 i Vespri, alle 20 la Veglia Funebre. Sabato mattina alle 9 e 15 la Salma di Monsignor Nonis verrà portata in cattedrale per un momento di commemorazione preliminare alla Messa. Ed ora una breve pausa. Eccoci di nuovo insieme per parlare dei 5.000 scout veneti pronti a partire per Pisa per il loro raduno nazionale. Strade di coraggio, diritti al futuro è lo slogan che li guida. Coraggio di amare, coraggio di essere ultimi, di fare chiesa, ma anche di programmare un futuro. Il coraggio visto come una molla che spinge a guardare avanti. E' questo il tema della terza route nazionale della GESCI, che ritorna dopo 28 anni a riempire il Veneto e l'Italia con 30.000 scout dai 16 ai 21 anni, che arrivano al meeting dopo un anno di preparazione. Loro hanno già, attraverso la metodologia scout, letto il loro territorio attraverso il filtro del coraggio e quindi hanno messo in atto anche delle azioni di coraggio. Più di 5.300 ragazzi veneti che zaino in spalla percorreranno gli 89 percorsi della regione dal 1 al 6 agosto. La regione sarà invasa da 5.300 ragazzi con le camicie azzurre che zaino in spalla e scarponi e piedi gireranno un po' tutta la regione. Io spero che chi li incontra sia animato da curiosità nei confronti di questi ragazzi perché sicuramente hanno uno zaino da riempire, quindi da portare a casa delle esperienze, ma anche anche uno zaino carico di una loro storia, di un loro percorso che merita di essere ascoltato. La seconda tranche dell'avventurosa spedizione andrà dal 7 al 10 agosto, quando in 30.000 arriveranno a San Rossore, in provincia di Pisa. Arriveranno là e costruiranno proprio la città delle tende, una città fatta di quartieri, fatta proprio anche con un municipio e un parlamentino che è quello proprio il luogo dove verrà scritta e approvata la carta del coraggio. È online da oggi il trailer di Life in Suite Web Doc, il web documentario che racconta il viaggio di Nicolo Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazze in Sud Sudan insieme a Medici con l'Africa Cuam, un'esperienza che potrà essere seguita integralmente su web da giovedì 24 luglio. Alla ricerca della felicità insieme ad Indiana Jones, l'obiettivo del GREST del Centro Diocesano di Pastorale per Ragazzi di Verona, raccontarcelo Roberto Zoppi della redazione di Telepace. Un tuffo nel mondo dell'avventura di Indiana Jones alla ricerca di un libro prezioso è il tema che fa da sfondo all'esperienza che una ottantina di preadolescenti della Diocesi di Verona sta vivendo in questi giorni a tracchi di Bosco Chiesa Nuova. Indiana Jones che insieme ai ragazzi della Diocesi di Verona è qui alla ricerca di quello che può essere un grande reperto, una grande scoperta, il testamento di Giovanni Evangelista. Sarà veramente il testamento di Giovanni Evangelista ma forse è una profezia un po' più profonda che i ragazzi porteranno a casa dopo questa settimana. Come sono cambiati oggi questi ragazzi? Dal vostro osservatorio come li vedete? Ma un po' sono cambiati, un po' forse sono gli stessi, sicuramente sono più tecnologici dei nostri tempi ma i bisogni fondamentali di amicizia, di essere amati, di crescere, di conoscere, di stare con gli altri, di fare esperienza sono sempre gli stessi. In questo proprio lo stare con Gesù, il fare esperienza di chiesa li può aiutare a trovare la strada giusta. Noi dovremmo imparare ogni giorno perché alla fine noi animatori veniamo ai campi scuola per dare noi qualcosa a loro però in realtà sono loro che lasciano dentro di noi un bagaglio immenso di felicità e di gioia che ci portiamo a casa e riusciamo anche a trasmettere a casa. Da qualche anno a questa parte anche i genitori partecipano attivamente all'esperienza come mamma Daniela. Noi vogliamo essere un po' una testimonianza, un punto di riferimento per i ragazzi per far capire l'importanza di una famiglia, di essere famiglia nei momenti di gioia, di gioco ma anche i momenti di difficoltà. Banca Prealpi scende in campo per il restauro dell'abbazia di Follina, l'Istituto di Credito Cooperativo ha infatti approvato un contributo di 20.000 euro per partecipare al recupero dell'edificio risalente al XII secolo e oggi in stato di pesante degrado. Era stato proprio il parroco di Follina, Don Luciano Torniero, a lanciare un appello al mondo della politica, alle istituzioni e ai privati perché si intervenisse a salvaguardia dell'abbazia. Il contributo della banca servirà per l'immediato recupero della scalinata di San Carlo Borromeo realizzato nel Cinquecento e oggi inagibile. Ed anche per oggi è tutto con TG Chiara, ci rivediamo domani. Grazie.